Prosegue a Taranto per ogni sabato di settembre il Taranto Grand Tour. Visite guidate, attività gratuite e la fruizione di luoghi di straordinario interesse. Un progetto di accoglienza turistica integrata e fruizione dell'immenso patrimonio culturale della città. Si continua nell'ottica di una reale destagionalizzazione della promozione territoriale, complici l'entusiasmo e la lungimiranza della cooperativa Poli Sviluppo, ideatrice dell'iniziativa, in collaborazione con decine, tra imprenditori della città vecchia e associazioni. Il progetto è sostenuto da Confcommercio Taranto ed è realizzato con la partecipazione del Comune di Taranto. A settembre la formula resta invariata, un solo biglietto, tantissime attività, due visite guidate sia nel centro storico che alla scoperta degli ipogei e poi ingressi in palazzi d'epoca, musei e persino un'ex chiesa con annessa canonica dell'Ottocento. Il contributo per il ticket integrato ha un costo di 15 euro ed è gratuito per i minori di 14 anni e gli accompagnatori di diversamente abili. Le visite guidate partono dall'info point del Castello Aragonese, ognuno potrà scegliere liberamente l'orario che preferisce. L'appuntamento è per ogni sabato di settembre, con attività dalle 10 alle 21. L'iniziativa ha come partner l'associazione Diseducation per garantire l'accessibilità e l'assistenza a persone con disabilità.